Lo sai che maleducazione è fissare? Beh, insomma, io sono un bel cazzo di maleducato Angel? Le tue orecchie, posso? No Oh, andiamo al per favore Questa tua sceneggiata non ha alcun effetto su di me Ah, e va bene, cavolo Cinque secondi Ti permetto di toccarle per cinque secondi Aspetta, davvero? Mi devo mettere nella posizione giusta Angel, mi sto pentendo di averti permesso di... Oh, caspita, sono così morbide Sicuri stia bene? Oh, sta dormendo, è morto, ma comunque sia io non ho intenzione di spostarlo